vediamo se ci siamo buongiorno a tutti che meraviglia sono sempre molto felice quando mi connetto in diretta con voi il vapore che vedete alle mie spalle sono gli spaghetti che stanno cucinando mi sto portando avanti come state ragazze mi vedete mi sentite da entrambi i lati quindi doppia diretta sia sul canale facebook che sul canale instagram fatemi sapere se siete pronti per preparare il pranzetto con me oggi foglie di sedano anziché buttarle ok fatemi sapere se si vede e se si sente ma soprattutto se si sente a me questo interessa moltissimo e anche di qua anche se temo datemi un secondo ragazzi ho dimenticato una cosa importantissima vi abbandono un secondo sentite con audio arrivo arrivo ne combino sempre una ragazzi mi sono dimenticata il doppio microfono da mettere di qua che così non ci sono allora come state ciao ragazzi buongiorno buongiorno buon pranzo a tutti buon mercoledì a tutti cosa andiamo a fare oggi bando alle ciance alle chiacchiere allora oggi ci occupiamo di una ricetta con i cosiddetti scarti ossia con le foglie di sedano eccole qua ok molto spesso quando prendiamo il sedano tutta questa popò di roba che non è poca eh è veramente tantissima tenete conto che questo non è neanche una costa intera ma è solo mezza costa le buttiamo invece in cucina soprattutto di questi tempi sarebbe molto 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 importante imparare a risparmiare riciclando anche tutto quello che spesso consideriamo scarto quindi a mio avviso è fondamentale cercare di conoscere tanti 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 trucchetti affinché questo avvenga abbastanza rapidamente visto che il caro bollette per alcuni è già iniziato per altri dietro l'angolo ma diciamo che non solo il caro bollette ma anche l'aumento dei prezzi degli alimenti eh è importante quindi ragazzi dobbiamo farci astuti e imparare il più possibile a riutilizzare quello che eh acquistiamo che tendenzialmente non calcoliamo o lo buttiamo oggi non andremo a parlare solo ovviamente di di foglie e di risparmio in cucina ma andremo anche a vedere che cosa fare con il sedano il sedano lo scrivevo nelle storie ieri è un ortaggio meraviglioso eh le foglie oltretutto contengono degli oli essenziali che sono estremamente depuranti e eh sono ricchissime di tante 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 sostanze nutritive eh e il sedano in sé comunque contiene tantissima fibra vi ricordo che la fibra ha eh un'importanza eh fondamentale nella nostra alimentazione in quanto essa in forma assolubile aumenta il transito intestinale e in forma insolubile eh rallenta l'assorbimento degli zuccheri naturalmente presenti per esempio nella pasta per esempio eh nel pane per esempio in tantissimi alimenti che eh consumiamo durante la nostra giornata quindi la fibra è importantissima il sedano è ricco di il sedano è ricco di fibra oltre che di tutte le sostanze che vi elencavo prima quindi importatelo sulle vostre tavole costa ancora non tantissimo diciamo che è un prezzo accettabile imparate a sfruttarlo eh non solo ovviamente tutta la parte di costa che vi ho messo qui nel piattino per mostrarvi l'ho già lavato tutto ma anche le foglie allora bando alle ciance cosa ho fatto io in questo momento ho già eh per questioni didattiche eh buttato la pasta si dice così no calare la pasta quindi ho già calato la pasta eh io calcolo di solito 80 grammi a testa noi siamo in quattro un più o meno poi c'è chi mangia un pochettino di più chi mangia un pochettino di meno per fare questa ricetta oltre alla pasta io vi ricordo che ho scelto senatore cappelli quindi degli spaghettoni di senatore cappelli senatore cappelli è un grano antico eh mi piace molto l'azienda che eh che è questa si chiama Alcenero non sono pagata non sono eh non vengo ovviamente qui per sponsorizzare voi lo sapete benissimo ma tendenzialmente questo tipologia di pasta mi piace tanto hanno anche appena cambiato la confezione hanno fatto una confezione completamente in carta cento per cento riciclabile eh che va ovviamente non più nella plastica come prima ma che va nella carta e viene completamente riciclato ehm è un po' più ha dei tempi di cottura più lunghi e anche qui subito subito già un trucchetto ve lo lascio in quanto dopo i primi tre quattro minuti di ehm che avete cominciato a far bollire la pasta potete se avete un coperchio spegnere la pasta proprio provate a casa spegnete il fuoco e attendete gli ultimi minuti di cottura indicati nella confezione a fuoco spento io vi assicuro che come per magia tanti non ci credono ma la pasta è cotta quindi dopo il tempo indicato in etichetta dopo i primi tre quattro minuti che avete portato l'acqua a bollire e avete fatto a bollire spegnete il gas o l'induzione quindi gas risparmio gas induzione risparmio elettricità e la pasta si cuocerà lo stesso ok quindi provate a fare questo trucchetto e vedrete che eh la pasta si cuocerà normalmente io adesso lo sto facendo ho messo comunque il timer che suonerà nel momento in cui eh è pronta e il mio consiglio è quello proprio di provare a fare questa banalissima cosa per risparmiare un pochettino andiamo un secondo invece a vedere la ricetta la ricetta prevede delle foglie di sedano che anziché buttarle ci andrò a fare questa salsa per condire gli spaghetti è una salsa al sedano e limone delle mandorle ma se non avevate le mandorle andava benissimo anche qualsiasi altra frutta secca che vi piace molto che avete in casa quindi imparate anche qui le sostituzioni e riciclare avete una manciata di noci che non le utilizzate bene utilizzate quelle pinoli anche se hanno un costo elevatissimo io vi dico la verità li uso pochissimo in cucina perché hanno un costo che si aggira intorno agli 80 euro al chilo poi dipende dalla varietà di pinolo quindi è importante come costo ne uso molto poco preferisco altra frutta secca i pistacchi se volevate gli anacardi andavano benissimo quindi magari trovate qualche frutta secca in offerta anziché utilizzare le mandorle potete tranquillamente utilizzare un altro tipo di frutta secca poi cosa vado ad utilizzare del sale comunissimo sale grosso ok sale io utilizzo sale marino integrale chi mi segue da un po' lo sa e poi vado ad utilizzare del parmigiano reggiano io prendo un 36 mesi attenzione se c'è qualcuno che è intollerante ai latticini il parmigiano reggiano lo può consumare se invece vi dà proprio fastidio il sapore non vi piace per motivi etici avete scelto un'alimentazione completamente vegetale potete omettere il parmigiano reggiano con un altro ingrediente che io tengo sempre in casa soprattutto se ho degli amici che non mangiano latticini che mi vengono a trovare che si chiama lievito alimentare non so se lo vedete è un lievito disattivato a tutti gli effetti richissimo tra l'altro di vitamine del gruppo b che funge da insaporitore quindi molto molto sapido se voi lo mangiate così lo sputate perché molto sapido e però sostituisci in modo egregio direi il parmigiano reggiano 36 mesi qualora non volesse utilizzare il parmigiano reggiano allora la ricetta è banale vi servirà un frullatore potente non importa se non avete il bimbi chi se ne frega qualsiasi frullatore che avete a casa va benissimo ok vado a mettere tutti gli ingredienti all'interno della mia del mio robot eh oltretutto poi e quindi ovviamente eh diretta vi metto tutte le dosi così avete le dosi e i pesi eh giusti eh quindi mandorle parmigiano le foglie di sedano che ho semplicemente lavato e poi ovviamente ho tolto l'acqua in eccesso con la centrifuga dell'insalata non so se avete presente oppure se non avete voglia di prenderla cercate di strizzare bene bene l'acqua in eccesso dalle foglie e poi la mettete all'interno del robot una presa di sale grosso integrale ok e ci metto anche un pochettino di buccia di limone prima la buccia poi il succo allora un po di buccia di limone poi un po di buccia di limone la terrò da parte perché l'andrò a mettere anche sopra la mia pasta ok i miei spaghetti sono quasi pronti quindi fra poco li scolerò poi vi racconto anche tutti i dettagli nel momento in cui vado a farlo ok quindi bucetta di limone vado a frullare a secco non vado ad utilizzare olio in nessun in nessun caso adesso lo utilizzerò fra un po' voglio tenere una sorta di pesto quindi voglio tenere una grana leggermente grezza ok quindi grossa non voglio tenere una salsa liquida voglio tenere una salsa molto granulosa vado farò un po' di confusione adesso è abbiate pazienza un attimo ok colore meraviglioso ovviamente perché non ho sbollentato le foglioline di sedano ora ve lo mostro ve lo faccio vedere qui avete due possibilità avete la possibilità di aggiungere del dell'olio se invece state seguendo un regime alimentare particolarmente restrittivo dove dovete magari porre molta attenzione all'utilizzo dell'olio potete tranquillamente ometterlo e aggiungere quando poi andrete a condire la pasta l'olio a parte ok non vi nego che l'olio extravergine di oliva in questo pesto ci sta benissimo però anche qui dipende se state seguendo un protocollo alimentare piuttosto che altre cose li decidete voi in base anche alle vostre abitudini e potete aggiungerlo subito finché frullate dell'olio extravergine di oliva io nella mia ricetta l'avevo previsto ma oggi durante la diretta ho deciso di fare questa variante altrimenti potete giocarvela per dare cremosità con un'altra cosa che adesso vi mostro ok perché ovviamente adesso vi faccio vedere questo pesto è asciutto perché non ho messo liquidi di nessun genere anche se l'aspetto è meraviglioso se lo faccio vedere però possiamo giocare per il discorso cremosità in un altro modo e adesso ve lo faccio vedere ok questo è il pesto guardate che meraviglio ok ragazzi è bellissimo eccolo qua quindi foglie di sedano riciclate con una manciata di mandorle parmigiano sale grosso ma quello che fa la differenza è la buccia di limone provate sedano e limone nel food pairing negli abbinamenti dei cibi ci sta una favola allora ora vi devo girare un secondo le spalle perché devo scolare gli spaghetti e come vedete il lavandino ce l'ho alle mie spalle quindi per un attimo ovviamente vado a scolare gli spaghetti prima però di scolare gli spaghetti cosa importantissima mi tengo da parte dell'acqua di cottura ok anche qui se non avete messo l'olio e volete dare un po' di cremosità ai vostri spaghetti giocatevela così quindi acqua di cottura che vado a tenere da parte che ho preso con una vediamo se faccio ho usato una caraffina graduata ok vediamo che la metto di qua che è una plastica un po' più perché sento che sta cedendo ho fatto una stupidaggine non ho usato quella in vetro perché non ce l'ho quindi eccola qua acqua di cottura di plastica di acqua di cottura della pasta scusate vado a scolare i miei spaghetti ok e vado direttamente a mettere gli spaghetti all'interno del mio pesto ok vado proprio a mettere tutti gli spaghetti qua dentro ora ve lo mostro vengo qua vicino a voi qua davanti a voi così ve lo faccio vedere vediamo se riesco a non gocciolare per tutta la cucina non mi sono organizzata bene oggi eh sono un po' confuzionaria portate pazienza ecco qua vado a mettere tutti i miei spaghetti all'interno della bull e ora ovviamente vado ad amalgamare allora questa cosa qua se non avessi da farlo vedere a voi lo farei direttamente sulla pentola ragazzi ok mantecherei con l'acqua di cottura e lo farei direttamente sulla pentola volevo farvelo vedere qui davanti per mostrarvi come si può dare comunque un po' di cremosità senza esagerare con l'olio e quindi mi sono messa qui davanti a voi tendenzialmente invece se lo fate sul fuoco e mantecate la pasta sul fuoco è molto meglio non potevo farlo per ragioni didattiche ma tendenzialmente dovete assolutamente se possibile preferibile farlo direttamente sul fuoco ok questo però per mostrarvi che questo pesto qua anche se non ci ho messo l'olio quindi paradossalmente diventa anche una ricetta molto 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 diciamo leggera anche se comunque ci sono le mandole che sono un'ottima fonte di grassi buoni per il nostro corpo potete gestirvela in modo indipendente in base ai vostri piani o alle vostre abitudini quindi vado a finire un attimo di condire questi meravigliosi spaghetti senatore Cappelli il grano che io ho scelto senatore Cappelli è una tipologia di grano antico così come la Timilia così come il Russello eccetera sono tutte tipologie di grani antichi che vengono trattati tendenzialmente meno del grano normale mi piacciono molto hanno un sapore un po' antico ok molto 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 diverso dal grano classico a mio avviso e mi piacciono molto ok questi sono gli spaghettini adesso ve li mostro vi faccio anche un impiattamento con il pesto di foglie di sedano antiche buttarle e fra poco impiatterò vado a mettere ora un goccio di olio extravergine di oliva proprio poco e poi vado a impiattare e a finire con altra zesta di limone prima però di impiattare mi sono preparata anche il piatto da impiattamento oggi anche se non ho le pinte eccetera ma cerchiamo di fare una cosa carina lo stesso prima di impiattare vi voglio spiegare un paio di cose perché ve l'avevo promesso vi avevo detto che vi volevo mostrare alcune modalità per gestire meglio il sedano quando lo comprate allora nel momento in cui non volete far avvisire completamente le foglie di sedano e poi buttarle vi consiglio di preparare questa ricetta perché è una stupidaggine non volete condire la pasta subito fatevi dei vasetti della bormioli metteteci ovviamente un po' di olio per regalare un po' di cremosità al momento due dita di olio sopra mettete il tappino e poi mettete in congelatore quindi questo pesto si può tranquillamente congelare da crudo così l'ho provato ed è comunque eccezionale ovviamente quando lo decongelate e dovete condire la vostra pasta ricordatevi di fare quello che ho fatto io tenere dell'acqua di cottura da parte per ridare vigore e dignità al vostro meraviglioso pesto congelato ma con l'altro pesto visto che vi siete prese le foglie ci avete fatto ovviamente il sedano quindi non si butta via niente con l'altro sedano scusate andiamo a metterlo in un contenitore di vetro già tagliato pronto all'uso se voi vi prendete solo le foglie ma poi lasciate questa povera costa nel cassetto del frigorifero voi quel sedano non lo mangerete mai più perché ogni volta che lo guarderete sarà sempre più vecchio e vi passerà la voglia se invece lo lavorate fin da subito quindi nel momento in cui decidete di mettervi in cucina dieci minuti ragazzi dieci minuti per fare questo pesto io sto anche chiacchierando sto cercando di essere concentrata a fare diverse cose quindi veramente ci ho messo cinque minuti l'altro sedano invece prendo dei contenitori di vetro o anche dei barattoli se non avete contenitori di vetro così ok eccoli qua ci metto il mio sedano dentro già tagliato come vedete a listarelle lo vedete in entrambi i canali ci vado a mettere dell'acqua naturale anche l'acqua del rubinetto sempre per questioni di dati che faccio tutto qua davanti lo posizionate bene fate in modo che sia completamente coperto dall'acqua ok e lo tenete lì pronto per la vostra merenda pronto per sfamare i vostri figli quando arrivano a casa e vogliono subito la cena per i vostri attacchi di fame come per me o almeno magari per voi no ma per me così premestruali per quella voglia di sgranocchiare qualcosa di fresco ok ce l'avete lì pronto all'uso così si conserva fino a dieci giorni testati non vi prendo in giro basta cambiare l'acqua tutti i giorni è una stupidaggine aprite il frigo per prendere una roba ributtate l'acqua e rimettete dell'acqua corrente pulita non ci vuole niente quindi sedano già pronto all'uso da consumare sgranocchiare o anche da cucinare perché ricordo che non è che il sedano si può mangiare solo crudo ma si possono fare mille cose anche da cotto ed è buonissimo dieci giorni in frigo coperto con dell'acqua niente sprechi volete invece prepararvi del soffritto e poi volete già metterlo via perché avete il sedano poverino che ormai è tutto avvizzito e avete anche due carotine sole sole nel cassetto del frigorifero nessun problema anche qui prendete un buon frullatore non importa se non avete il bimbi chi se ne frega va benissimo anche un altro frullatore lo dico sempre ok? quindi prendete un altro frullatore pulito adesso in questo caso ci andate a mettere dentro delle carote già a pezzo pulite se sono biologiche vi ricordo che le potete utilizzare tranquillamente anche con la buccia e poi ci andiamo a mettere dentro anche il sedano volendo ci potete mettere dentro anche la cipolla io non faccio mai soffritti con la cipolla da mettere via in anticipo perché dipende cosa sto facendo e vi assicuro che ci sono anche tantissimi miei amici tantissimi miei ospiti che non gradiscono particolarmente la cipolla o l'aglio e quindi mi faccio sempre un soffritto neutro senza cipolla adesso ve lo mostro come lo faccio e poi la cipolla eventualmente la aggiungo nel secondo momento o faccio anche delle preparazioni di soffritto di cipolla già pronte da utilizzare ma non mescolo mai sedano, carote e cipolla da mettermi via nei cubetti in freezer perché spesso tantissime persone che invito a cena magari non gradiscono la cipolla o non la digeriscono o insomma anche l'aglio non gli piace e quindi cerco sempre di evitare comunque sedano, carota frullatore ovviamente frullo io non ci metto altro ok? potete giocarvela potete metterci delle erbette aromatiche potete metterci già un po' di sale io non ci metto niente perché poi mi piace personalizzare le ricette ogni volta che vado a lavorare in cucina quindi voglio personalizzare il soffritto perché sto cucinando i ceci e voglio farli alla salvia nel momento in cui vado a farlo ci aggiungerò la salvia ok? io non personalizzo mai nulla tengo tutto molto neutro e poi me la vado a giocare ogni volta che mi serve l'ingrediente allora vado a frullare velocemente vi mostro attenzione non nessuno ha scritto da nessuna parte che il soffritto si deve fare con il frullatore vi ricordo che il soffritto si può fare tranquillamente anche a mano coltellino e via e li dipende anche dal vostro tempo eccetera due possibilità vaschetta dei cubetti del ghiaccio che potete riempire adesso vi mostro e poi mettere ovviamente l'apposito coperchio perché ne esistono anche con il coperchio questo non ce l'ha e poi congelare oppure sacchettino però adesso vi spiego come mettere nel sacchettino perché non è così scontato ok? allora lo facciamo in entrambe le versioni quindi andiamo a mettere il mio soffritto anche qua quando andate a farlo ragazzi cercate di spingere bene con le manine ok? affinché non ci siano vuoti d'aria dentro questa cosa fatela fare ai vostri bambini che loro si divertono e voi andate avanti con qualcos'altro e non ve l'ho detto prima a volte il sedano essendo ricco di fibra ha delle parti abbastanza fibrose quindi le coste se vi dà fastidio puoi trovare tutta quella quella parte un po' più coriacea magari non vi piace ritrovarvela nelle ricette potete tranquillamente anche se leggermente utilizzare un taglia patate un taglia scusate un peli a patate peli a patate classici questo prendere la vostra costa di sedano e togliere un pochettino la parte più coriacea che è la parte un pochettino più dura in bocca se non vi piace ok? quindi potete fare questo vedete come ho trasformato quella brutta 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 sola 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 carota del mio frigorifero e come ho trasformato il sedano che si stava vittendo in un meraviglioso soffritto in un minuto che avrò pronto da aggiungere alle mie ricette qualora io desidero questa è una figata ragazzi non buttate niente recuperate il più possibile allora ho la vaschetta del ghiaccio come vi sto mostrando io quindi poi è facile meglio se hai il coperchio perché ovviamente evitiamo le bruciature da macro cristalli del ghiaccio del freezer oppure se non avete questa ok? quella dei cubetti del ghiaccio potete tranquillamente utilizzare un sacchetto questo è un sacchetto se volete vi do il link l'ho comprato su Amazon ok? è un sacchetto in silicone lavabile riutilizzabile anche qui investite una volta non ci pensiate più niente sprechi ok? e come vado a congelare il mio soffritto in questo modo vado a metterlo all'interno del mio sacchetto datemi un attimo che non volevo sporcare dappertutto ma ho idea che dovrò pulire è che lo volevo raccogliere abbastanza bene perché visto che stiamo lavorando contro gli sprechi in cucina lasciare un sacco di cose attaccate al mio robot non è il massimo dalla vita ok? allora ecco qua il mio soffrittino allora quando lo metto nel sacchetto lui tende a scendere verso il basso lo vedete? ok? no dovete evitare tutto questo ragazzi lo evitate perché poi quando vi dovete prendere il sacchetto quando vi dovete prendere il soffritto dal sacchetto che ovviamente è in freezer e niente vi arrabbiate perché è tutto compattato e tutto ovviamente in un blocco unico quindi come si fa? intanto vi chiudete bene il sacchetto ok? con un po' di pazienza facendo uscire bene l'aria ve lo chiudete bene e lo sigillate dopodiché per non fare questa cosa qua semplicemente lo distribuite con le manine e fate in modo di ottenere una sorta di rettangolo con le mani adesso ve lo faccio vedere quindi cercate che sia che rimanga comunque tutto unito ma cercate di ottenere una sorta di rettangolo adesso ve lo mostro in questo modo quando dovete decongelarne un pezzo vi serve un pezzo direttamente dal freezer per i vostri soffritti basterà semplicemente romperne un pezzo come si spacca una schiacciatina quindi diventa veramente 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 facile ok? ve lo mostro e lo congeliamo ovviamente così adesso io lo vado a mettere in freezer sembra una stupidaggine ma è importante in questo modo ok? non lo vado a mettere via così ma lo congelerò così lui ovviamente si congela poi posso tirarlo su una volta che è congelato si congela e nel momento in cui mi serve un pezzo di soffritto semplicemente con le mani molto molto easy molto facile vi viene? ok? guardate che meraviglia ve lo mostro lo vedete? è tutto piatto ok? lo mostro anche dall'altra camera eccolo qua ok? benissimo allora direi che è arrivato il momento di impiattare quindi impiattiamo i nostri spaghetti che nel frattempo non me li sono dimenticati anche perché è il mio pranzo ok eccoli qua si sono anche magari un po' raffreddati secondo voi oggi troverò le pinze? no? ovviamente chissà dove le ho lasciate come il mio solito non importa lo facciamo con la forchetta fosse mai una volta che mi ricordo di portarmi tutto giù va bene non importa ok? ho proprio lasciato tutto da un'altra parte ok ok allora un altro pochino dopo ve li mostro un filo d'olio sono bellissimi hanno un colore verde acceso che non so se la camera veramente rende e un po' di buccia di limone come vi dicevo qui ci abbino un altro po' di verdura e se voglio un piccolo secondo e il gioco è fatto ok eccoli qua guardate che meraviglia li vedete stanno ancora fumando non so se si vedono con le luci ok ragazzi allora pesto di sedano soffritto modo di utilizzare le foglie due diverse modalità di conservare il sedano in frigo e in freezer se avete delle domande mi potete tranquillamente scrivere io vi vorrei invitare ufficialmente visto che è la prima diretta che faccio da quando ho lanciato il mio webinar il 7 novembre alle ore 21 per un webinar che ho chiamato risparmia sulla spesa trucchi e tips contro il caro bollette il webinar è chiuso nel senso che non sarà sui social ma è solo su iscrizione quindi se volete iscrivervi qui vi metto ovviamente il link per poterlo fare sia su facebook che su instagram dipende da dove me state guardando e all'interno del webinar ci sono ovviamente tutti tutta una raccolta di trucchi dei miei ultimi due anni di studio e di esperienza per risparmiare davvero in cucina quindi non parleremo solo di elettrodomestici ma parleremo anche di modalità di cottura alternative come fare diverse cose contemporaneamente con uno strumento in cucina per risparmiare tantissimo e soprattutto anche tanti consigli per quello che è la spesa stessa vi ricordo che negli ultimi anni mi sono dedicata tantissimo allo studio della pianificazione settimanale e del batch cooking quindi della cucina seriale e quindi sono molto preparata su quello che è anche il discorso spesa quindi per esempio durante il mio webinar del 7 novembre alle ore 21 solo su iscrizione parleremo anche di quando comprare cosa perché sembra una stupidaggine ma secondo le mie ricerche la variazione di prezzo dipende anche dal momento in cui acquisto determinati alimenti e quindi ci sono determinati elementi in alcuni tempi dell'anno che sono estremamente sconsigliati e ve lo posso tranquillamente dimostrare quindi c'è anche tutta questa parte molto interessante per chi ovviamente volesse cominciare fin da subito dopo il webinar a mettere in atto queste strategie e a risparmiare quindi niente io vi ringrazio di essere stati qui con me oggi spero di vedervi al webinar del 7 novembre per chi invece avesse piacere ci vediamo domani sera alle ore 21 con Monica Caruso che è una parent coach per parlare di educazione alimentare con i bambini a tavola educazione inclusiva come gestire i nodi bambini e molto 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 altro con tanti trucchi stratagemmi da parte mia ovviamente in cucina trucchi stratagemmi pratici vi auguro un buon pranzo a tutti ragazzi grazie mille di esservi connessi buon pomeriggio ciao ciao